Eccomi qua, vi ho nascosto una cosa, già da un po' di giorni, la cosa è questa, questa è la conseguenza di una cosa molto particolare che mi è successa, che io volevo evitare, si sapesse, ma oggi, insomma, credo gli amici di Tresci Italiano abbiano pubblicato una foto che non so, forse qualcuno sul set ha scattato, vabbè, poco male, ve la racconto, non mi ricordo forse una settimana fa, ho avuto una sorta di incidente perché sono scivolata, sono caduta in maniera molto pericolosa e una grande lastra di cristallo mi è entrata qui e, vabbè, insomma, le conseguenze sono state particolari, per molto tempo ho avuto l'insensibilità l'altro braccio, la mano, vabbè, insomma, una cosa che mi ha insegnato che nella vita capita tutto in un minuto, può capitare tutto in un minuto e la vita è vissuta con gioia. Volevo, questo è quanto, io però sto benissimo per girare i promo, mi tolgo il collarino, mi sono tolta il collarino e li ho girati, le foto le ho fatte un po' di spalle per evitare in questi giorni, lunedì torno in diretta, super garula, volevo ringraziare gli infermieri, i dottori del pronto soccorso dell'Humanitas che mi hanno veramente con grande discrezione, senza ovviamente prevaricare gli altri malati, diciamo così, si sono occupati di me, mi hanno tenuto molte ore là, mi hanno curato, mi hanno fatto varie cose e quindi dicono che sono medicinali contro l'osteoporosi o l'artrosi, ecco io da una settimana imbottisco di medicinali che sono mio rilassanti e che sono antidolorifici contro le vertigini, contro la nausea eccetera eccetera eccetera, quindi mi dispiace per voi, ma l'artrosi o l'osteoporosi non ce l'ho e vi auguro tanta gioia. Ma batterà affanculo, ma batterà affanculo, ma batterà affanculo. Grazie... 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 Grazie...